4 dicembre 1946, nasceva a Pasadena Stanley e Roger Smith. E chi di voi non ha mai avuto nel guardarobbo una sua scarpa? Già avete ragione, le sue scarpe le conoscete con un nome più breve. Signori, stiamo parlando della Stan Smith, una linea semplice e pulita per un prodotto iconico di Adidas. La sneaker di per sé si presenta con una tomaia bianca in pelle fiore ed un intersuolo in eva. Le sue varianti negli anni a venire hanno mostrato come il connubio tra passato e presente abbiano trasformato questo prodotto, utilizzando un modo di dire caro ai miei tempi, in un evergreen. La scarpa ebbe il suo esordio nel 1964, ma ai piedi del tennista francese Robert Haillet. Il modello, a differenza poi di quello che Saram, si presentava con una suola molto spessa, senza logo Adidas, sui trifogli e sul tallone, e con la firma di Robert Haillet, posto sul fianco esterno della sneaker. Adidas successivamente lo sostituì con Stan Smith, apportando variazioni al modello, quali una suola più sottile e il trasferimento del nome del tennista sulla linguetta, con fotografia e relato di l'autografo. Era il 1965. Trovete sul mercato anche alcuni modelli con la semplice scritta su patch cucita sulla linguetta, Adidas Smith, ed altri, recanto il nome del giocatore, posto sotto il trifoglio, entrambe cuciti. Con il passare degli anni, il modello Stan Smith, come anticipatovi, ha conservato le sue caratteristiche principali, ma variando i materiali per la composizione della domaia. Scamosciato, prime knit, pelle di pitone, pelle martellata, pelle di serpente, ed ultimamente abbiamo avuto anche un'intersuola interamente in busta. Rita Ora e Farrell Williams sono solo alcuni dei testimonial. I colori, credetemi, non si contano come le fantasie grafiche messe sulla domaia. L'Asta Smith è stata prodotta anche in una versione mid, come d'altronde i lacci negli anni 90 segnalano il passo alla chiusura con il velcro. Abbiamo avuto anche un'Asta Smith, potremmo dire modello decoltè, per non farci mai mancare niente. Più andiamo verso il futuro e più cerchiamo e apprezziamo il passato. Questa sneaker la troverete in tutti i migliori negozi di sport. Alla prossima ragazzi e seguite sempre i nostri consigli. Arrivederci. Alla prossima ragazzi e seguite i nostri consigli.